Musica 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 Questa era la pavimentazione originale il corto siciliano che era in alcuni frammenti e queste sono le pestrelle che erano diventate per mano quelle originale dell'eggessa Musica 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 Casualmente Si stanno scegliendo i posti a pezzar pezzi Ci sono posti a sedere pure Musica Musica Se volete io ce ne ho una qui ce ne sono 8000 Fatteli vedere Ma che non c'è? No qua Però le portone sono comode a Praga o a Praga c'è una chiesa ancora più grande c'è tutte le pareti con teeschi, osse che cosa a Roma a Roma a Roma sulla destra e qui? la? da posto eh però è venuta molto bella per adorazione insomma senza la 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 Grazie. Grazie. Ti seguirò, ascoltami, ti ascolterò, e io fedele sai a te sarò, amami, ti amerò, guardami, ti guarderò, e il tuo faro allora io sarò. Grazie a tutti.